ha ottenuto il tempo di 1.471 Sergio Perinoffasso ha ottenuto il tempo di 1.434 Per tenere massima attenzione e massimo silenzio al momento della partenza con i scugli di tromba e i bambini lo accompagnano il via di questo istituzionale finale fino in皮ball attenzione ancora viviamo al basso in testa alluvusto insieme a qua rim gonna passare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.